E quando mi tengono in testa quelle cosine, io... Basta, per quanto sia, che... Vuoi fare l'amore? E me lo chiedi? Vuoi fare l'amore? E me lo chiedi? Lei è un duro. Insomma. Farò di lei un grand'uomo. Sono ingegnere. Ingegnere. Ma chi avrebbe interesse a ucciderti? L'ingegnere? Anche sua moglie. Perché rida? Rido. Sto ridendo, allora? Lei si tenga a disposizione, non si muova da qui. E avverte anche la sua signora.